50 detenuti delle prigioni di Poggio Reale e di Secondigliano completeranno il loro percorso di pena svolgendo lavori per il Comune di Napoli. La Giunta cittadina ha sottoscritto una convenzione col Ministero della Giustizia con la quale accoglierà nelle strutture comunali alcuni detenuti, i quali saranno impegnati in diversi settori operativi, dalla cura del verde pubblico e ai servizi sociali, alcuni di loro collaboreranno con associazioni di volontariato. La misura alternativa al carcere ha senz'altro lo scopo di migliorare la funzione rieducativa della pena, anticipando il reinserimento nella società. Secondo l'associazione Carcere Possibile, il pericolo di recidiva dei reati riguarda il 65% di chi ha scontato la pena in una cella, ma soltanto il 20% di chi ha beneficiato di misure alternative. Questo percorso che ci avviamo a realizzare insieme al Tribunale offre un'opportunità vera di reinserimento di persone che certo hanno sbagliato, ma a cui va data comunque sia un'opportunità nell'interesse loro, certamente delle loro famiglie, ma anche nell'interesse più generale della collettività, perché se questo contribuisce a ridurre la percentuale dei recidivi, credo che davvero questa cosa serva all'intera città. E nei giorni scorsi i penalisti napoletani hanno denunciato ancora una volta la situazione disumana e insostenibile delle prigioni italiane, dove una persona muore ogni due giorni e ogni cinque si conta un suicidio. Attualmente a Poggio Reale, a fronte di una capienza effettiva di circa 1.400 posti, sono costrette oltre 2.600 persone, condizioni evidentemente intollerabili per le quali gli avvocati della Camera Penale chiedono attenzione, rilanciando le alternative alla reclusione carceraria e una riflessione più generale sulla funzione della pena. Sulla drammatica situazione delle carceri si sono pronunciati tutti, dal Presidente della Repubblica al Ministro di Giustizia e sinceramente non mi sembra che si siano approntati provvedimenti che abbiano risolto alcunché.